Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTec. Oggi torniamo un po' agli antipoti di TuttoTec con... TuttoTec, tuttoTec, bellissimo. Torniamo un po' indietro nel tempo. Allora ragazzi, oggi vogliamo presentarvi una presa smart che ci è stata inviata da una start-up che sta avendo molto successo su Amazon per la vendita di prese smart. Stiamo parlando della... BI Tech. BI Tech. Questa presa smart viene venduta singolarmente ad un prezzo di 11,99€ oppure la coppia a 22,99€. Quindi abbiamo dei prezzi veramente concorrenziali. Prima di tutto vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo tale da poter ricevere tutte le notifiche di quando noi caricheremo nuovi video. E di lasciare un bel mi piace a questo video. Ma soprattutto vi consigliamo di visitare la loro pagina perché hanno dei prodotti veramente eccezionali. In questo momento noi troviamo le prese smart ma probabilmente in futuro amplieranno un po' la gamma dei loro prodotti. Noi però soffermiamoci in questo momento su questa presa. Come potete vedere è ancora incelofanata. L'abbiamo ricevuta qualche giorno fa. Abbiamo aspettato per poter fare insieme a voi l'unboxing di questo prodotto. Ma prima di questo noi lanciamo la... Sigla! Apriamo insieme la confezione. Allora, la confezione si presenta in maniera molto semplice. Di fronte abbiamo la marca, dietro la figura del fatto che abbiamo due sciuco e ci dice che c'è possibilità appunto di connetterle poi ai nostri dispositivi Amazon Alexa e Google Assistant. Apriamo la confezione. Ed eccola qui, la nostra presa. Sciuco nella parte interna, sciuco per connetterlo alla presa di corrente e tasto per resettarla, accenderla. E adesso andremo a vedere un po' cos'altro c'è nella confezione. C'è il manuale di istruzioni con il QR code che vi connetterà direttamente alla app Smart Life. Smart Life ormai è una app per questo tipo di presa o comunque in generale per vari dispositivi smart che consente di connetterli semplicemente e di avere un'ottima resa. Ottima notizia che si collega all'app Smart Life in quanto, come abbiamo visto in tantissimi video da noi fatti su altri prodotti, funziona egregiamente senza alcun problema. Quindi diciamo che questa start-up, questa società ha pensato bene di appoggiarsi ad una app che ormai è consolidata e secondo noi, date le recensioni e dato come funzionano i loro prodotti, secondo noi avrà successo anche questa start-up. Parliamo del materiale, è una plastica rigida però molto solida. Sembra un prodotto molto solido a differenza di altre prese magari che abbiamo preso in passato dimensioni contenute comunque nella norma non sono le classiche anche prese iniziali che avevano uno scatolotto grosso così intorno. Sì, erano quasi il doppio. Esatto, questa è una bella estetica la testeremo insieme come facciamo sempre con tutti i prodotti e vi daremo la nostra opinione. L'unica cosa che dovete fare è prendere un adattatore sciuco per poterlo inserire oppure come nel mio caso adesso che la testeremo se avete delle prese già con l'attacco sciuco vi basterà semplicemente inserirle e il gioco è fatto. Ma detto questo, procediamo con l'installazione. Procediamo con l'installazione. Connettiamo la nostra presa smart si accende questo led sta lampeggiando entriamo nella app smart life e come per tutti gli altri dispositivi clicchiamo sul più in alto a destra selezioniamo presa wifi e ci chiede se sta lampeggiando la presa non lampeggia veloce sta lampeggiando abbastanza lenta proviamo a tenere premuto l'interruttore per qualche secondo ok, ha iniziato a lampeggiare in maniera più veloce a questo punto possiamo cliccare su conferma che sta lampeggiando velocemente qui ci dice di inserire la password del wifi è stata trovata la presa diamo fine eccola qui a questo punto possiamo fare le varie configurazioni allora intanto andiamo subito a cambiare il nome quindi clicchiamo sulla matitina in alto a destra la matitina ancora in alto a destra clicchiamo su nome e lo sostituiamo cancelliamo la rinominiamo comodino e diamo conferma addirittura qui possiamo cambiare l'icona con una semplice fotografia oppure con le foto che abbiamo noi e la posizione saltiamo questo passaggio ci dice che è possibile connetterla ad Alexa ed ecco fatto facciamo la prova connettiamo la presa alla presa smart e accendiamo qui dall'applicazione ecco fatto la presa funziona ora per poterla comandare da Alexa e poi da Google andiamo in Amazon Alexa dispositivi e come compare qui nella schermata in alto c'è un puntino verde accanto alla scritta prese vi ricordiamo sempre di scaricare la skill in questo caso dovete scaricare la skill di Smart Life io ce l'avevo già clicchiamo sul messaggio in alto ho trovato una nuova presa visualizza ed eccola qui comodino e facciamo una prova anche con Alexa Alexa accendi comodino spegni comodino ed ecco fatto adesso passeremo alla app Google entriamo nella app Google Home clicchiamo in alto a sinistra più configura dispositivo arrivati a questo punto clicchiamo su hai già configurato qualcosa e ricordatevi prima di fare il prossimo passaggio di accendere la presa con il tastino qui selezioniamo Smart Life cerca nuovi dispositivi Smart Life collegato adesso è in fase di ricerca ecco trovata la presa selezioniamo la presa e clicchiamo su avanti la casa è sempre quella Mickey House avanti e qui ci chiede dove lo volete mettere questo dispositivo camera da letto avanti se andiamo a vedere in camera da letto oltre il dispositivo Google Home e oltre il climatizzatore abbiamo anche comodino adesso facciamo la prova con Google Home ok Google accendi comodino certo accendo il dispositivo comodino ok Google spegni comodino va bene spengo il dispositivo comodino come avete notato è molto reattiva e quindi è funzionato configurazione terminata come avete potuto vedere è stata semplicissima ringraziamo ancora la BITEC per averci inviato questo prodotto vi invitiamo oltre che se siete interessati acquistare quel prodotto qui sotto perché naturalmente mettiamo il link in descrizione e come avete potuto sentire il prezzo è veramente competitivo vi chiediamo anche di lasciare una recensione su Amazon ma semplicemente perché perché la recensione che voi lasciate può aiutare tante persone a poter decidere se acquistare o meno questo prodotto noi di tutto tech siamo rimasti veramente soddisfatti non abbiamo avuto problemi di sorta l'unico problema che non abbiamo fatto vedere perché è sempre il solito problema è quello del 5 gigahertz il 5 gigahertz va disabilitato dal vostro computer oppure in casi un po' più fortunati vi basterà spostarvi in un'altra stanza abbastanza distanti dal vostro modem e questo farà sì che prenderà automaticamente il vostro prodotto in questo caso la presa prenderà direttamente il 2,4 perché questi prodotti funzionano col 2,4 gigahertz un'anteprima spoileriamo qualcosina abbiamo stiamo preparando un video su come fare a disabilitare il 5 gigahertz per il lasso di tempo che ci serve per poter configurare questi prodotti e poi dopo riabilitarlo tranquillamente perché una volta configurati poi non gli interessa più nulla che ci sia il 2,4 o il 5 fateci sapere qui sotto nei commenti se questo questo tipo di video che abbiamo intenzione di fare stiamo realizzando in questi giorni può comunque servirvi perché secondo noi potrebbe risolvere parecchi problemi detto questo vi invitiamo nuovamente di seguire il canale lasciare un commento qui sotto se qualcosa non vi è stato chiaro se avete suggerimenti scrivete sempre sotto nei commenti e che dire alla prossima da parte mia e di mio fratello ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti